465 euro in media è la retta che una famiglia vicentina paga per l'asilo nido per l'anno scolastico 2019-2020. La tariffa più cara in Veneto, seconda solo a Belluno, dove si pagano 477 euro. A dirlo un'indagine di cittadinanza attiva, l'osservatorio Prezzi, che ha esaminato le tariffe degli asili nido su tutto il territorio nazionale e dove si rileva che le regioni settentrionali si caratterizzano da una spesa notevolmente più elevata. Si è esaminata una famiglia tipo, composta da tre persone con un'isee pari a 19.900 euro. Trova posto in asilo poco più di un bambino su cinque, ma in Veneto la copertura si attesta al 25%.